Mi ero infilato la giacca nel completto e li ero incamminato Ah, le mie coppie! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video challenge Oggi sono in compagnia di Francesco che mi assisterà in questa Whisper Challenge La Whisper Challenge che cos'è? È una sfida nel quale testeremo il nostro video E la nostra capacità di capire quello che dice l'altro però senza poterlo sentire Quindi solo leggendo il labiale, quindi in realtà non è che testiamo l'udito, testiamo la vista No, io lo ascolto con le orecchie, non sono tu Anche io ascolto con le orecchie, ma se le orecchie ascoltano la musica? Comunque si suddividerà in tre round Nel primo round cercheremo di indovinare una parola perché finita col semplice Nel secondo round due parole, un nome e un cognome di un personaggio famoso Nel terzo round invece dovremmo dire una frase di senso compiuto Ma non troppo lunga insomma, cioè poi dipende da quanto saremo cattivi l'uno con l'altro Ci alterneremo, poi alla fine vedremo che ha fatto il punteggio più alto e quindi dico Porca miseria È un periodo di influenza Ah, primo round Non mi sento, non mi sento, non mi sento, non mi sento che bello Una parola Termometro Vomito Termometro Termometro Vomito Termometro Termometro Oh signore, stiletto Dilla piano Dilla piano Drogheria Ridilla Drogheria Conchiglia Conchiglia Conchiglia, ripeto Drogheria 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 Con la carta Era drogheria Nome e cognome famosi Secondo round Distravi 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 Quindi Tom Hanks Tom Ellis Tom Hanks Tom Hanks È giusto? Ottimo Nome e cognome Ok Pamela Anderson Scusa Pamela Anderson Papa No è un cognome Pamela Anderson Eh? Pamela Anderson Parma Elios Pamela Anderson Pamela Anderson Pamela Anderson Panda Elio Perchè Dall'altro lato Ci sono le uova Oddio un pezzo per moto Pollicino Pollicino Attraversa la strada Attraversa la strada Perchè dall'altra parte Perchè dall'altra parte Ciscono le uova Sono nuove Ci sono le uova Hai indovinato tutto tranne la fine Cosa? Ci sono le uova Ci sono le nuove Le uova Le nuova Le uova Le uova Posso toglierla musica? Una frase di senso compiuto Ciao Vado piano però un pezzo per volta Certi amori non finiscono Sto cercando di dirmi qualcosa Ma io non lo so cosa sto cercando di dirmi Certo Amori non finiscono Ma io lo capisco Una parola alla volta Certi C'era Certi 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 Amori Amori Non Non Finiscono Certi amori finiscono Non Non Finiscono Fanno Fanno Giri Schifo Giri Piedi Giri 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 I menti Bici Immensi 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 E poi E poi Ritornano Ritornano Ripeti la frase Certi amori Non Finiscono Fanno Giri Immensi Come finiva Certi amori Non Finiscono Fanno Giri Immensi E poi Ritornano Oddio Grazie La Whisper Challenge È finita Vi ringrazio Francesco Di essersi prestata Questa tortura Ubitiva Noi ci vediamo Con la prossima Challenge Il 15 Marzo Mentre con il prossimo Video domani Con Danza con Joe Mi raccomando Seguitemi su tutti i vari Social Contattatemi Commentatemi E sostenetemi E se vi è piaciuto Questo video Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella E ovviamente Mettete un pollice in su Ci vediamo al prossimo Video Ciao Ciao Ciao